Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Sipili, due chilometri di coda per lavori tra Ginestra, Fiorentina e Scandicci verso Firenze. In A1, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Si informa che la statale 1 Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni tra Viareggio Sud, la rotatoria di Viareggio per un danno al cavalcavia al chilometro 356 e 616 provocato da un trasporto eccezionale. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, a causa dell'emergenza Covid, dal 1 novembre è sospeso l'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Maggiori informazioni sui nostri canali social.